Il primo acquazzone estivo a Gela non ha mancato di procurare subito i primi danni che in questa occasione hanno riguardato la discarica Timpazzo. Nonostante le difficoltà, le operazioni di conferimento dei rifiuti non sono state interrotte. La pioggia abbattente ha provocato lo smottamento di una dorsale del costone che si affaccia alla discarica, danneggiati anche gli impianti elettrici. Praticamente ieri nel primo pomeriggio una bomba d'acqua si è riversata proprio nella zona di Contrada Timpazzo, quindi sulla discarica ed è stata una pioggia di notevole intensità che come tutte le piogge estive dopo un lungo periodo di siccità ha trovato tra virgolette i terreni impreparati a raccogliere tutta quest'acqua perché molto secchi proprio per la siccità estiva e quindi l'acqua col dilavamento ha creato parecchi danni alle strutture ma anche alle infrastrutture esterne della discarica. Come spesso accade quando vi sono perturbazioni di questo tipo abbiamo problemi con le energie elettriche e quindi abbiamo avuto questi sbalzi di tensione che hanno procurato parecchi problemi agli impianti, abbiamo dovuto staccare tutti a verificare, abbiamo avuto problemi alla pesa e agli impianti elettrici in generale. Per fortuna abbiamo i nostri tecnici che immediatamente sono intervenuti e dal punto di vista elettrico hanno ripristinato l'efficienza e quindi la discarica siamo stati in grado di poterla tenere aperta perché senza pesa avremmo dovuto chiuderla. E poi i problemi alle infrastrutture come magari avete visto dalle riprese che avete fatto negli argini per esempio della vasca ACD dove l'acqua ha creato notevolissimi problemi e ora stiamo valutando i danni e verificando come intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi.